Ivan Donov ha il grande talento che esprimerà la vera performance di questa sera, ovvero il momento dedicato alla moda, perché attraverso la moda i popoli riescono a dialogare. Ivan, perché secondo te? Buonasera a tutti, intanto io, già di mio, dialogo tramite la moda perché sono di origine bulgara, però ho imparato l'arte della moda grazie all'Italia, perché ho studiato qui, ho imparato una delle arti più belle che avete voi qui in Italia e con grande orgoglio la trasmetto al mondo, perché quello che creo è Made in Italy, il dialogo perché? Perché soprattutto vorrei lanciare un messaggio con questa collezione ispirata dall'arte islamica, che è quello che purtroppo succede nel mondo in questo momento, una distruzione dell'arte, dell'islam, che comunque è un passato che ci ispira, un passato grazie a quale ci siamo noi. Come noi abbiamo i fori imperiali, così sono tutti quei reperti e quelle bellezze dei paesi arabi. Ecco perché ho scelto di creare questa collezione con una ricerca in Turchia, in Qatar, anche dove ho preso dei elementi dell'architettura araba, dei elementi anche di paesi come Siria, per trasmetterli in uno stile dell'Occidente, uno stile nostro dell'Europa, mettere a proprio agio ogni donna, indossando un abito ispirato da un'antica e lontana cultura, dalla nostra, con lo stile nostro. Questo mi piace, ogni singola parola che hai detto ai nostri videoascoltatori, un focus sulla collezione di questa sera, intanto i colori e i modelli. Allora, i colori sono bianco, nero e oro, sono vestiti da mattina, pranzo, per fare lo shopping, andare a prendere un cocktail, fino all'abito alta moda per un red carpet, una cena come la nostra di stasera, e chiuderemo con due abiti speciali, due abiti da due nostri grandi artisti, Corvino e Rigoni, perché sono due artisti da quali io ho preso una grande ispirazione, grande amicizia, perché sono persone con grande cuore, perciò chiuderemo la sfilata con questi due abiti e sorpresa per tutti voi, perché i tessuti con quali sono stati creati sono le stampe delle loro opere d'arte, di tessuti bellissimi, di chiffon, seta, di organza dorata, di stampe meravigliose, ma già voi vedete che nelle mani di ogni artista c'è il mondo. Noi ti ringraziamo, so che le tue modelle ti aspettano e quindi ti lascio andare perché devi fare ancora gli ultimi preparativi prima di calcare il palcoscenico. Grazie Ivan Donev. Grazie a te, ti aspetto nel backstage per il tuo vestito. Non mancherò.